I nidi comunali di Pordenone accolgono bambini dai 3 mesi ai 3 anni, divisi per fasce d'età. Il nido il Germoglio di via Uronzo e il nido l'Aquilone in via General Cantore. Entrambi i servizi sono aperti da settembre a luglio per 42 settimane, più 2 settimane di nido estivo. Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13, con possibilità di prolungamento fino alle 16, su richiesta delle famiglie e verificando la disponibilità del servizio. Un valore aggiunto è rappresentato dalla cucina. Infatti, in entrambi i servizi è prevista la preparazione interna del pranzo. Il menu, autorizzato dall'ASFO, potrà essere modificato per esigenze particolari. La retta è calcolata a seguito della presentazione dell'ISEE ed è possibile personalizzarne l'importo con un indicatore inferiore ai 30.000 euro. Per ulteriori informazioni, potete consultare il sito del Comune.